...di tempo, ma diciamo sempre le stesse cose. Un amico mio l'altro giorno mi ha detto, da quando c'è l'euro non ho più una lira. E poi forse, tiene l'euro. Cioè, se torniamo alla lira, è top, non tiene più un euro. O no? Perché il problema, secondo me, non è la moneta, ma chi la gestisce, meno male.